Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi parliamo di una coppia di amiche davvero speciale, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Dopo aver superato le incomprensioni nate durante la loro partecipazione al reality show più famoso d'Italia, le due hanno ritrovato l'armonia e ora sono più unite che mai. Antonella ha deciso di mostrare ad Oriana le bellezze della sua terra, Salerno. Appena Oriana è atterrata, Antonella non ha perso tempo e l'ha portata a Positano per una vacanza indimenticabile. Con loro c'era anche il papà di Antonella, che ha fatto un bel complimento ad Oriana, dimostrando che la nuova amicizia è ben vista anche dalla famiglia. Ma non è finita qui, oggi Antonella porterà Oriana a Capri per continuare questa splendida avventura. Voi cosa ne pensate? Vi piace questa nuova coppia di amiche? Fatecelo sapere nei commenti e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e condividete il video con amici e parenti. Grazie per il vostro supporto e a presto!